Quando dico che stimo Massimo D'Alema dico la verità, perché credo che sia veramente un pezzo della storia del partito, di uno dei partiti che è entrato nel Partito Democratico. Però siccome si chiama Massimo D'Alema e siccome è un pezzo di storia del partito, io come iscritta al Partito Democratico pretendo da Massimo D'Alema che faccia uno sforzo maggiore, che non stia lì a distruggere ma a costruire. Bravo! 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 Bravo!